ciao a tutti nel video che si chiama gli ultimi avvenimenti e profezie finali che consiglio di vedere a chi a chi non l'abbia ancora fatto ho cominciato parlando della della profezia di daniele il libro del vecchio testamento come conoscerete e precisamente del sogno fatto da da nabucodonosor dove dove dio ha voluto far conoscere al re tramite l'interpretazione appunto del profeta daniele quello che sarebbe successo in tutta la storia dell'umanità partendo da lui che corrispondeva alla testa d'oro cioè babilonia vi ricordate poi ho mostrato un paragone tra l'amministrazione di giuseppe nel tempo di abbondanza seguita da quella di carestia paragonata il tutto paragonata a quello che stiamo vivendo con la crisi attuale poi più avanti tramite il libro dell'apocalisse scritto dall apostolo giovanni ispirato da dio siamo riusciti a scendere nei dettagli di quello che si prospetta essere l'ultimo regno nella storia dell'umanità e cioè il nuovo ordine mondiale no il sesto il settimo e l'ottavo re quindi vi consiglio a chi a chi ancora non non l'avesse visto questo video diciamo di controllarlo di di vederlo tirando le somme ho potuto vedere che le visualizzazioni per per questo video precedente sono arrivate veramente alle stelle circa 88 mila e non sono di certo mancati commenti 184 commenti fino fino a questo momento certi profondi con attenti spunti di riflessione che mi sono molto piaciuti ed altri addirittura al contrario impubblicabili dove proprio guarda l'ignoranza e la maleducazione si sono espressi ai massimi livelli con addirittura bestemmia e quant'altro via comunque vabbè giusto che che ci sia che ci sia anche questo chiaramente nel massimo del rispetto sarebbe sarebbe meglio sarebbe l'ideale non mi ero preposto di raggiungere dei dei risultati ma ho voluto affidare tutto nelle nelle mani del signore che a quanto pare ha provveduto positivamente per un'ottima divulgazione di questo di questo messaggio con questo con questo secondo video voglio farvi vedere e smascherare soprattutto voglio confermarvi più da vicino chi sia davvero questo falso profeta no di cui la scrittura tanto parla nel video gli ultimi avvenimenti e profezie finali ho fatto notare come in apocalisse i regni dettagliatamente raccontati arrivano a ben otto e vi ricordo che quel libro è stato ispirato da dio all'apostolo giovanni qualche decina di anni dopo la morte di gesù intorno all'ottanta dopo cristo mentre in daniele i componenti metallici che compongono la statua alla quale ad ogni componente poi corrisponde un regno arrivano a cinque ricapitoliamoli un attimino vi mando la foto ecco qua allora la testa d'oro che corrispondeva a babilonia il petto e le braccia d'argento il regno di medio persia il ventre e le cosce in bronzo la grecia le gambe in ferro roma imperiale pagana e piedi in parte di ferro e in parte d'argilla roma papale e roma papale europa democratica il ferro quindi se si presta attenzione si può notare che si ripresenta anche nel quinto componente ed il suo dominio come regno si prolunga nei secoli come spiega l'apocalisse come caratteristica si ripresenta sia del sesto che del settimo che dell'ottavo re o regno cioè sempre l'impero del ferro l'impero romano che lascia il posto alla roma papale che si espanderà no si si conformerà nei secoli fino alla fine dell'età presente fino alla fine dei nostri tempi al capitolo 17 al versetto 9 del libro dell'apocalisse della rivelazione è scritto così qui sta la mente che ha sapienza le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede noi sappiamo che che la donna nelle profezie è identificata con la chiesa come del resto sappiamo che il dragone antico è satana quindi non resta altro che pensare che la città dove risiede e vi è adagiata la donna sia sia roma andiamo adesso a leggere nel libro di daniele che lo troviamo nell'antico testamento al capitolo 7 al versetto 25 egli proferirà parole contro l'altissimo perseguiterà i santi dell'altissimo con intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge fermiamoci qui e la legge e la legge chi altri se non il papato si è arrogato questo potere beh è sicuro che non lo avrebbero dovuto fare chiaro perché gesù stesso lo ha puntualizzato nel libro di matteo al capitolo 17 il versetto 5 è gesù stesso che che parla qui e dice non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti io non sono venuto per abolire ma per portare a compimento attenzione dice non sono venuto per abolire cioè non sono venuto per cancellarla la legge ma per portarla a compimento o meglio per spiegarvi come si rispetta questa legge per spiegare come rispettare i dieci comandamenti e sì perché a quei tempi diciamo gli studiosi rabbini la classe sociale dei dei farisei che poi erano la guida spirituale per tutto il popolo ebraico tutti confidavano diciamo nella preparazione di queste di queste persone avevano creato intorno alle dieci parole di dio intorno ai dieci comandamenti delle restrizioni che se analizzate a oggi per quelli che sono i nostri la nostra crescita spirituale basata su sulle esperienze della vita degli insegnamenti di gesù cristo no la nostra crescita spirituale che ci ha portato ad un ad una libertà in cristo a oggi sembrano praticamente quasi assurdi queste assurde queste restrizioni questo cancello che hanno creato intorno a questi dieci comandamenti e non solo addirittura anche anche impossibili da poter rispettare no tra tra l'altro ok andiamo avanti no leggendo perché in verità vi dico finché il cielo e la terra non passeranno neppure un solo iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto qui c'è un'altra cosa importante no un neppure un solo iota dice il iota è praticamente la l'apostrofo diciamo chiamano chiamiamolo così più piccolo che esiste nell'alfabeto nell'alfabeto ebraico quindi pensate l'importanza di poter togliere o aggiungere qualcosa o addirittura cancellarlo no la gravità infatti come segue c'è una fase chiamiamola chiamiamola punitiva no continua a leggere chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli qui pure è da evidenziare no avrà ok trasgredito uno di questi minimi comandamenti però soprattutto la cosa più grave avrà insegnato agli uomini cioè sarà stato un cattivo esempio qui qui il peccato che praticamente è veramente grande no l'aver insegnato male sarà chiamato minimo nel regno dei cieli ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli quindi da qui mi sembra di capire che nemmeno gesù il figlio di dio si sia permesso di cambiare niente sembrano chiare le parole di gesù assolutamente niente da tutta la sacra scrittura giusto penso che anche voi vedete intravedete la stessa cosa no eppure essendo il figlio di dio avrebbe potuto no ci sono delle tematiche come ad esempio quella del sabato cambiato dal re costantino con la domenica ma per approfondire questo ci vorrebbe troppo tempo quindi voglio sì inoltrarvi il discorso del sabato ma per ora farvi riflettere più che altro sulla sulla ragione logica prendiamo il libro adesso andiamo nell'antico testamento e prendiamo il libro dell'essodo al capitolo al capitolo 2 il versetto 2 e 3 ok leggo pertanto il settimo giorno dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto e dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta quindi la traduzione esatta proveniente dalla lingua ebraica la traduzione corretta che è quello che poi ci interessa di più riporta la parola sabato shabbat come anche in certe traduzioni addirittura addirittura nelle nelle edizioni paoline che quindi sono cattoliche scrive la parola sabato invece ad esempio nella nella bibbia che ho io che è la nuova dio dati la traduzione ribadisce più volte la parola settimo giorno ma non parla del sabato quindi bisogna scoprire quale sia questo questo settimo giorno e secondo voi qual è il settimo giorno come possiamo saperlo andiamo a scoprirlo insieme andando nel nuovo testamento al libro di matteo al capitolo 28 il versetto 1 leggo ora alla fine del sabato all'alba del primo giorno della settimana ok quindi stiamo parlando de della domenica maria maddalena e l'altra maria andarono a vedere il sepolcro semplice anche perché non esistevano i nomi degli altri giorni della settimana c'era solo il primo il secondo giorno il terzo giorno il quarto giorno e così via l'unico giorno importante consacrato da dio era lo shabbat il sabato che significa riposo per l'appunto significa cessazione dal lavoro ok ok ragazzi ricapitoliamo quindi dalla creazione fino all'arrivo di cristo cioè circa 4500 anni si è sempre celebrato il sabato cristo stesso ha insegnato per tutto il tempo del suo ministero a rispettare tale giorno ea celebrarlo addirittura se ci pensiamo bene ha rispettato il sabato anche nella sua morte sì mi spiego meglio allora il calvario con con le torture ci sono stati il venerdì poi al tramonto gesù rese lo spirito si è riposato tutto il sabato da tramonto a tramonto come ci ha insegnato lui a fare e alla fine del sabato quindi all'alba del primo giorno della settimana è risorto ma c'è straordinario ha celebrato ha rispettato il sabato anche tra il tempo che intercorreva dalla sua morte alla sua risurrezione straordinaria ma andiamo avanti il sabato si è continuato a celebrare fino all'arrivo del cristianesimo romano il primo cristianesimo romano per convenienza di unione tra paganesimo e cristianesimo si è scelto di abolire il sabato inserendo la domenica ecco anche qui non voglio scendere in in particolari perché sennò ci vorrebbe un video solamente e poi comunque voglio dire che questa qui è storia è storia basta che voi aprite l'enciclopedia treccani inviti in wikipedia e ricercate il re costantinio il consiglio il concilio di nicea quindi potete trovare assolutamente tutto dalla storia stessa quindi potete tirare fuori questi passaggi che sono che sono molto interessanti voi anzi come già precisato io vi do l'input quello che voglio stimolare in voi è la curiosità perché poi voi personalmente possiate andare a a studiare queste cose a verificare nella sacra scrittura e diciamo confermare quello quello che vi ho detto oppure no andiamo avanti allora e prendiamo adesso il libro del profeta isaia al capitolo 66 i versetti 22 e 23 leggo poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me dice l'eterno così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome e avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me dice l'eterno da questi versi è chiaro che il sabato si continuerà a celebrare anche nell'eternità vorrei allora tirare le somme e cercare di farvi usare la logica come ho detto prima a questo punto ma se per tutta la storia del genere umano dalla creazione all'eternità circa 6.500 anni totali si evidenzia l'importanza della celebrazione del sabato con oltre più di 100 versetti biblici che parlano di questo e della gravità nel trasgredirlo spiegatemi con quale autorità l'uomo peccatore e manipolato da interessi di potere abbia abbia potuto auto eleggersi figlio di dio permettendosi di cambiare e di cancellare a suo piacimento delle leggi divine intoccabili cioè ma ci rendiamo conto o no riprendiamo il libro di daniele al capitolo 7 i versi 25 leggiamo insieme egli proferirà parole contro l'altissimo perseguiterà i santi dell'altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge capite adesso a chi a chi si riferiscono questi versetti biblici ci tengo anche a precisare che tramite altri studi si c'è la la possibilità di capire chiaramente che gesù non ha assolutamente lasciato lasciato l'esclusiva del suo incarico a pietro c'è la possibilità di di fare questo percorso di studi ma anche molto semplice dove dove si vede chiaramente che che gesù non ha lasciato a nessun essere umano il suo incarico come la chiesa cattolica ci vuol far credere sono interpretazioni errate e distorte volontariamente voglio farvi vedere cosa è stato cambiato adesso esattamente dal 325 dopo cristo ad oggi per mano dei primi cristiani romani fino al papato tutto quello che è stato modificato no che è stato modificato nei nei comandamenti divini andiamo a vederlo allora mettiamo la foto eccola qua a sinistra come vedete ci sono i comandamenti che sono stati cambiati dall'uomo cioè dal catechismo del concilio vaticano nel 1968 sono stati cancellati abbreviati semplificati con la scusante da parte di un prete che così fossero più facili da memorizzare no a destra la traduzione originale da dall'ebraico della parola di dio nella versione cattolica notiamo subito l'abbreviazione delle parole che compongono le frasi ma se scendiamo nei dettagli notiamo che quello che sarebbe il secondo comandamento a sinistra nella versione cattolica è stato praticamente cancellato riuscite a vederlo wow che spettacolo è stato proprio cancellato eccezionale straordinario ma mi domando se è realmente stato cancellato un comandamento no allora automaticamente dovrebbero risultarne 9 giusto non l'avete pensato anche voi questo bom andiamo a vedere insieme cosa è successo allora ed infatti se scendiamo giù se andiamo a controllare il decimo comandamento originale quindi quello sul lato destro e paragoniamolo e bingo ecco qua è stato diviso in due parti che corrispondono al nono e al decimo della versione cattolica che troviamo sulla sinistra quindi ecco per riportare per rifar quadrare i calcoli perché se no sarebbero sarebbero chiaramente chiaramente stati nuovi comandamenti no che è normale loro si approfittano dell'ignoranza umana però l'ignoranza umana per quanto ignorante arriva comunque fino a un certo livello perché se tutti quanti sappiamo che sono i dieci comandamenti e tu me ne presenti 9 cioè per quanto magari possa essere ignorante e non posso capire non essere non posso essere illuminato su determinate cose per carità però cavolo una cosa è 10 una cosa è 9 qualcosa è cambiato mentre invece no sono comunque 10 però ci sono state queste queste modifiche no io credo che per molti molti di voi già già lo sapevano no però non gliene importato niente probabilmente non so molti hanno hanno approfondito questa tematica e molto probabilmente è stato motivo di di allontanamento dalla diciamo dalle dottrine cattoliche e di avvicinamento a a gesù di avvicinamento sincero e con cuore con cuore onesto a gesù e quindi qui qui si è compiuto se fosse stato così si è compito si è compiuto un miracolo perché è molto è molto importante molto bello quando quando una persona diciamo riesce a finalmente a a vedere quello che quello che vedeva sempre solamente con occhi diversi è una cosa un po strana però effettivamente funziona così a volte noi per tutta la vita abbiamo di fronte una pecora una pecora bianca ma noi per tutta la vita siamo convinti che quella pecora sia sia marroncina sia nera sia sia viola sia di un altro colore siamo estremamente convinti fino a che non arriva la benedizione del signore e riusciamo finalmente a a mettere a fuoco perfettamente l'immagine e ci rendiamo conto di quello che di quale è stata la nostra condotta fino a quel momento quale è stata la nostra vita e non possiamo che ringraziare dio allontanarci da questi falsi insegnamenti e ospitarlo lasciarlo entrare nella nostra vita gesù farci trasformare la nostra esistenza bene quindi tirate voi le somi adesso perché perché le mie sono già belle che tirate da da molti anni penserà scrive il versetto di mutare i tempi e la legge i tempi io li paragono al sabato praticamente sostituito con le con le feste in generale nel comandamento numero 3 modificato come vedete originariamente invece il sabato è il quarto comandamento il rispettare il celebrare il sabato e le leggi semplicemente perché sono state spostate semplificate e separate quindi andiamo avanti la domanda che che dio vi fa oggi è questa scegli tu personalmente di seguire me o scegli di continuare a seguire gli insegnamenti dettati dagli uomini vedete in maniera più più semplice ed intuitiva vorrei cercare di farvi capire qual è l'effettivo rischio spirituale che si corre tralasciando questi particolari importantissimi insomma si preferisce seguire gli insegnamenti dell'uomo semplicemente perché ai nostri occhi si mostra come un'autorità eccelsa mentre non sono altro che pedine manipolate messe lì apposta per svolgere il loro compito alla perfezione uomini che le cui menti sono sono costantemente in comunione con spiriti maligni ci sentiamo confortati perché vediamo milioni e milioni di persone che accorrono da ogni parte del mondo per ricevere queste benedizioni che alla fine sono solamente aria inquinata prima e parlo di non troppi anni fa cioè quando nacquero i primi più pionieri protestanti no che si sono schierati contro la supremazia papale beh il rischio il rischio a quei tempi era enorme chi veniva preso mentre leggeva testi biblici ed esponeva un pensiero diverso da loro veniva bruciato sui roghi o crucifisso a testa in giù nelle piazze per secoli la supremazia papale ha utilizzato queste misure drastiche per mantenere la propria potenza la propria autorità ma oggi facciamo un paragone a oggi 2017 vi immaginate cosa succede cosa succederebbe se se venisse bruciato un cristiano in una piazza wow quanta gente si allontanerebbe dall'istituzione cattolica io credo che si svuoterebbero completamente le chiese beh vi dico che le cose non sono migliorate no perché chiaramente c'è c'è un enorme differenza tra prima e oggi questo che significa che la chiesa si è resa conto degli errori che ha fatto è cambiata no le cose non sono assolutamente migliorate sono solamente cambiate le maniere oggi lavorano d'astuzia vuoi sì allora oggi lavorano d'astuzia facendoci scendere a compromessi con un dragone travestito da agnello con un lupo travestito da agnello la sete di supremazia no e di dominio è cresciuta nel cuore di queste persone guidate da satana oggi quello che c'è quello che ci si presenta davanti è questo semplicemente vi faccio vedere questi questi due quadri eccoli qua satana lavora nella mente e nei cuori delle persone con con astuzia unica speciale e soprattutto a noi incomprensibile e anche inarrivabile se pensiamo che lucifero no conoscerete la storia di lucifero è stato nominato da dio come il sigillo della perfezione crediamo davvero che noi da soli con i nostri secondo me con la nostra degradazione ripieni di peccato ed impurità possiamo riuscire a sconfiggere una creatura così eccelsa uno di questi due quadri è l'originale il grande artista che si è espresso con originalità e creatività seguita da chiaramente da un grande talento e da una tecnica artistica senza precedenti e l'altro beh l'altro è il falsuario agli occhi di milioni e milioni di persone praticamente uguale spiccicato all'originale siamo di nuovo come prima allo stesso incrocio e dobbiamo scegliere cosa facciamo volendo possiamo anche tirare a caso eh sì perché noi dobbiamo fare una scelta siamo chiamati a fare una scelta alla fine dei tempi come nel tutto nel percorso intero della nostra vita siamo sempre stati messi a delle a degli incroci siamo arrivati a degli incroci abbiamo dovuto prendere le nostre decisioni e questa è un'altra scelta cosa fare e sì chissà forse la fortuna che poi non esiste come non esiste la sfortuna mi farà ritrovare nel sentiero giusto al momento giusto che porta alla vita eterna o altrimenti o altrimenti sceglierò il il falso confidando che no come come sempre abbiamo fatto che tanto dio è un amore unico a 360 gradi e che mi perdonerà se nella mia vita sono voluto rimanere ignorante riguardo la possibilità di avvicinarmi a lui non ho voluto conoscerlo veramente meglio non ho desiderato lasciarlo entrare nella mia vita non l'ho voluto come amico non mi sono voluto far amare veramente da lui io già lo so le vostre risposte e di vostri desideri quali sono allora vi chiederete come faccio a sapere quale sia il quadro originale bella domanda ve lo dico ve lo dico ma prestate attenzione prestate attenzione adesso prima di tutto bisogna informarsi chi sia l'artista dopodiché bisogna conoscere che tipo di strumenti ha utilizzato per per la realizzazione del dipinto sapere che che tipo di colori se ad olio o acquarello o non so che io io sinceramente non mi intendo molto di pittura su tela no però bisogna specializzarsi comunque bisogna conoscere la maggior parte delle tecniche che usualmente caratterizzano quel tipo di pittore no per fare quei cerchi per fare quei cerchi li li ha fatti con il pennello oppure li girano spandendoli con con il dito perché ci sono degli artisti particolari che lasciano proprio quel segno particolare quei quadri sono autentici perché ripresi con la lente di ingrandimento si distingue diciamo la 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 pittura spalmata con il dito e quant'altro insomma una volta presa un po di confidenza con l'arte con 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 l'arte della pittura ci possiamo avvicinare alla tela e con una lente di ingrandimento notare le differenze uniche che sono che solamente un grande artista può avere e che altrimenti non avrei mai notato le stesse differenze che avete notato in questo video oggi il male satana lavora dove noi crediamo si trovi il bene è riuscito ad entrare nei cuori e nelle menti di persone che governano ai massimi vertici questo pianeta possiamo sconfiggere satana beh io dico di sì anzi vi dico di più gesù ha già lottato per tutti noi e satana è stato sconfitto tramite la sua risurrezione ora per gioire di questa vittoria dobbiamo solamente abbandonarci a lui accettandolo completamente lasciare che guidi le nostre esistenze e ci trasformi come persone nuove io ho scelto già il mio quadro a costo della a costo della mia vita ho deciso che la che la mia direzione sarà sempre verso gesù il mio unico grande padre amorevole la tua direzione amico ascoltatore qual è per adesso per adesso mi voglio fermare qui credo sia sia sufficiente poi mi farebbe piacere che vi iscriviate al mio canale perché appunto questi nuovi video il prossimo che farò si chiama la grande vittoria di satana e quindi potrete essere avvisati quando quando uscirà ecco parlerà dell'immortalità dell'anima un tema importantissimo e per quanto mi riguarda anche anche di facile comprensione perché la scrittura è molto chiara nel dare certe risposte ad esempio i morti possono comunicare con noi cosa c'è dopo la morte quindi toccherò temi come l'idolatria è giusto o no l'intercessione dei santi ed altri video ancora pubblicherò che ci aiuteranno a scoprire quale sia il quadro originale da poter scegliere lo scopriremo chiaramente tutto alla luce dell'immutabile parola di dio alla luce delle sacre scrittore quindi vi auguro un buon proseguimento di vita a tutti e che gesù vi benedica costantemente ciao